torno spesso è un progetto di ricerca azione che analizza la relazione tra l'assenza di luoghi di aggregazione e le motivazioni sociali e culturali che portano migliaia di giovani a lasciare i propri territori di origine l'iniziativa parte da arci benevento allo scopo di comprendere al di là delle cause economiche dello spopolamento quali siano le esigenze che l'entroterra segnatamente l'entroterra campano non riesce a soddisfare il progetto è di durata annuale e poi avete tre macro attività la formazione degli operatori culturali che sono coinvolti nel progetto una mappatura dei luoghi di cultura e infine la sperimentazione di azioni pilota volte a favorire i processi di ritorno un'idea che risponde in pieno alla logica di socialità e territorialità della rete arci e che fa riflettere anche in tempi di covi è un'emergenza che tra le infinite difficoltà e disagi sta contribuendo anche a sollevare un rinnovato desiderio di radici